Avete vinto per 9-0 contro il Bageria, una vittoria molto larga, ti chiedo un'analisi rapida della gara. È stata una partita un po' facile, però si poteva anche fare meglio, perché potevamo approfittarne di altre occasioni che non abbiamo sfruttato, però noi siamo contenti di questa vittoria, che ci ha dato tre punti in più, perché ne possiamo approfittare che il Misilmeri, che sarà uno dei primi posti con noi, che lotterà, è appareggiato con il Ficarazzi, quindi possiamo approfittarne. Tutto sommato stiamo facendo bene per ora. Siete a cinque punti dalla vetta, quindi immagino tu sia soddisfatto dell'andamento del campionato della squadra. Sì e no, perché stiamo lottando per questo primo posto, perché i primi tre posti sono molto difficili, perché, come abbiamo visto con il Ribolla, una squadra molto brava tatticamente, la stessa sarà l'Adelcam e i Misilmeri pure, però noi potevamo fare anche meglio, perché in molte partite noi abbiamo avuto un calo fisico e anche mentale, che non siamo riusciti ad approfittarne nel momento in cui l'Adelcam ha pareggiato. Noi non siamo riusciti ad approfittarne di questo fatto. A livello personale, invece, sei soddisfatto delle tue prestazioni o ritieni che potevi fare anche qualcosina in più? No, potevo fare molte cose in più, come molte partite in cui noi squadra abbiamo giocato male e io stesso ho giocato male. Quindi mi ritengo di poter migliorare giorno per giorno.